5 musicisti piemontesi interpreteranno le musiche di Assor Piazzolla sabato 3 dicembre a partire dalle ore 21.30 a Bageria. Il concerto fonde tango e milonga con un uso intelligente dell'elettronica, il tutto senza perdere il fascino di un ensemble che annovera strumenti tradizionali come la chitarra e il violino. Io suono la fisarmonica principalmente, però usiamo loop elettronici, chitarre con delay distorti e anche il violino stesso usa degli effetti molto particolari come i phaser, flanger, distorsioni sul violino per creare atmosfere nuove e diverse e giocare e sperimentare sulla musica di Assor. La direzione artistica e gli arrangiamenti tra citazioni rock e world music sono affidati ai magazine Ducafè, nel loro stile originale e suggestivo che li ha fatti apprezzare nei teatri di tutta Europa. In questa edizione speciale saranno proprio loro suonare la passione immensa di Assor Piazzolla per la sua terra ed una tradizione che ormai è patrimonio dell'umanità. È la prima volta che veniamo in Sicilia con questo spettacolo, siamo già venuti diverse volte in Sicilia, terra che amiamo alla follia, terra che ha accolto la nostra musica world fortemente. Noi partiamo di origini, la maggior parte di noi è sarda, adesso abbiamo fatto un'estate, un tour dedicato a Liscialdana, al popolo sardo, quindi abbiamo fatto sei dati in Sicilia, sono andate benissimo, l'accoglienza è sempre stupitosa, festival molto belli, è stato fantastico.